Un anno senza l'orso Bruno Marsicano Joan Carrito. Era il 23 gennaio 2023 quando il plantigrado ribattezzato M20 morì a Castel di Sangro in provincia dell'Aquila in Abruzzo dopo essere stato investito da un'auto. Una vera e propria tragedia per il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, impegnato nella tutela degli animali selvatici. Lui è sempre con noi il commento dello staff dell'Area Naturale Protetta. Joan Carrito aveva 4 anni, era il figlio dell'Orsa Marena uccisa con un colpo di fucile il 31 agosto 2023 ed era diventato la mascotte del territorio. Negli ultimi mesi della sua vita M20 aveva rubato teglie di biscotti in una pasticceria, aveva distrutto le arnie per mangiarne il miele e si era avvicinato troppo alle abitazioni. Proprio per questo la presenza dell'Orso Bruno Marsicano aveva diviso cittadini e scienziati. Se per alcuni il plantigrado era un simbolo dei bordi abruzzesi, per altri il carattere mansueto dell'animale rappresentava un pericolo per la sua stessa incolumità. Joan Carrito è l'equivalente di un Giamburrasca, aveva dichiarato a Teleambiente Giovanni Cannata, presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.